il mio genere è la batteria che ce l'avevo fatto come cazzo l'aria ma lei non è impossibile ma no io mi favo vedere 69 anni un nome, un numero, una grande zia una ragione eh, sfido a chiunque ci arriva non è possibile, non è possibile come si deve continuare a prendere le gambe non è possibile, non è possibile non è possibile, non è possibile sapevano la seguita ho fatto l'arco? no, no no No? No. No no? Il tutto è in casa. Come va? Che è la mia一直 nella prima volta? Non si, non si è sbagliato. Ah, bene. Ah. Il mio pesce. Ahилin è ancora sbagliato, è stato gelato. Non si vuole bene. Opetta è prezzaggio. E' il mio primo sicuro. Ah, ma non si fosse un sano per me. Grazie. Una, due. Avvicinatevi, vi ha messo l'applauso. Siccome ti sta facendo carnalini, la si sta spormonando. Questa della musica, la sangra del pagione. C'è un cino. 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 Finalmente ci siamo riusciti. Dopo tanta lunga sofferenza. Siamo arrivati a 69 anni. C'è un cino. C'è un cino. C'è un cino. E' bellissima. Questa è vero. Grazie. Ogni anno un applausino. spada. Sì. 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 Sì.